Nuovamente in studio a Passi in Salute con Michele Nadeo, neurochirurgo della Città della Salute, CTO di Torino. Stavamo parlando, tu hai iniziato a parlare di questo argomento importantissimo dei traumi cranici e midollari. Ci raccontavi l'esperienza da te vissuta di una persona che ha per pochi metri di strada fatti senza portare la cintura di sicurezza, adesso si trova in una condizione di tetraplegia, veramente drammatico, la vita di questa persona è stata trasformata. Però ci dicevi questa cosa importantissima, per cui penso si fa questo ragionamento, le città a 30 km orari la velocità in città andrebbe ridotta, 40 km orari è come lanciarsi dal terzo piano. Ti prego di commentare queste cose e darci delle spiegazioni di quanto sia importante l'uso di questi ausili. Sono importantissime proprio perché noi pensiamo sempre che quando abbiamo un incidente stradale pensiamo all'alta velocità, invece anche a basse velocità possiamo avere poi dei danni non indifferenti, se non utilizziamo, non stiamo utilizzando questi ausili di protezione, per esempio in macchine, in automobili, l'utilizzo della cintura di sicurezza e avere poi un'autovettura munita di airbag. Però è importante fare una precisazione perché tutti pensano, io non metto la cintura di sicurezza ma ho l'airbag ed è una cosa sbagliatissima perché è pericolosissimo viaggiare senza cintura di sicurezza, l'airbag è stato fatto proprio perché va usato in contemporaneo con la cintura di sicurezza, noi in letteratura abbiamo oltre 500 casi di persone morte o con gravi danni per esplosione acuta, improvvisa dell'airbag senza motivo e non avevano la cintura di sicurezza. La velocità dell'airbag, l'apertura è di circa 300 metri al secondo, è una velocità enorme, quindi se tu non sei tenuto dalla cintura di sicurezza corri il rischio proprio di avere un impatto, esatto, un cranio facciale con una lesione probabilmente a livello cervicale, quindi il danno maggiore può essere proprio un danno spinale a livello cervicale se non si utilizza la cintura di sicurezza. L'altro punto fondamentale è che l'autovettura dobbiamo sempre metterci in testa di farla controllare perché basta una banalità, il pneumatico non corretto si esplode e anche a 50 km puoi non tenerla l'autovettura e poi se in più non hai la cintura di sicurezza può succedere un patatrache. Ecco tu però oltre che come neurochirurgo quindi che purtroppo ti trovi a dover soccorrere questo tipo di anche di patologie ti occupi anche di un'associazione molto importante che è Bip Bip di cui tra l'altro come tutti in questo periodo ma sono ben contento di farlo anche per voi c'è la possibilità di dare una mano con sottoscrivendo il 5 per mille nella denuncia dei redditi e quindi io lo voglio dire telespettatori di Passi in Salute diamo una mano al dottor Nadeo che molto fa per tutti questi pazienti purtroppo che hanno avuto un trauma cranico a volte anche non per colpa loro. Parliamo un po' di questa Bip Bip. L'associazione è nata nel 2004 e è stato il proseguo di un progetto regionale che era partito prima verso fine gli anni 90 e che appunto si chiamava Bip Bip il cui acronimo allora era Brain Injury Prevention Brain Injury Protection però poi dopo nel momento che abbiamo costituito l'associazione per noi Bip Bip è un segnale d'allarme quindi cercare di utilizzare proprio la testa per salvare il corpo. Questo è il nostro logo e ne approfitto perché ecco questo è il nostro sito che però adesso lo stiamo rifacendo quindi uscirà una nuova un nuovo sito. Però volevo dire una cosa che noi ecco lì sotto non so se hai letto si leggeva Think First. Noi siamo associati con la Think First Foundation degli Stati Uniti che è la fondazione dell'associazione statunitense più grande sulla prevenzione e noi ne siamo associati con loro e rappresentiamo in effetti siamo a livello europeo i loro rappresentanti quindi questo per noi è motivo di orgoglio proprio perché ci permette di confrontarci con associazioni di questo tipo quindi senza altro noi abbiamo imparato tantissimo da loro e però loro qualcosa vuole da noi sulla nostra organizzazione. Non è che siamo proprio sempre assolutamente a rimorchio degli altri eccolo qua Think First si vedeva nella slide presente. In queste slide leggevo che voi battete molto sulle fasi della prevenzione. Parliamo perché ci sono quattro fasi. Le quattro fasi della prevenzione secondo l'OMS prima, seconda, terza e quarta. Noi ci occupiamo prevalentemente prima e seconda e quarta. La prima e seconda sarebbe la prevenzione prima che l'incidente accada sia per quanto concerne l'utilizzo di... diciamo la prima fase è più strutturale la prima fase di prevenzione che però è più istituzionale, cioè strade sicure, evitare che si siano tombini aperti, che la gente ci può cadere dentro parcheggi diciamo sicuri. Quindi questa è la prima fase. La seconda fase è quello proprio di utilizzare quei mezzi di protezione che dicevamo prima affinché se accade un incidente, l'incidente possa dare un danno minore, inferiore. Ma tu vedi anche dei ciclisti? Assolutamente. Ne approfittavo proprio per dire questo. Ne approfitto poi. I ciclisti come i pedoni e lo stesso i motociclisti rappresentano la fascia debole perché sono quelli che non hanno alcun diritto sulla strada purtroppo, per loro non si ha diritto. E i ciclisti assolutamente è una fascia debole. Oggigiorno senz'altro anche loro o chi va in bici si è diffuso abbastanza l'utilizzo del casco, questo è fondamentale. I pedoni d'altra parte pure loro rappresentano una fascia debole. Fra l'altro i pedoni è aumentata moltissimo l'incidenza di traumi a carica di persone oltre i 70 anni. Perché banale caduta. Oggigiorno chi è che non assume cardioaspirina o antiaggreganti che siano? Banalissima caduta e poi dopo esiti di un trauma che può essere sia immediato oppure un effetto tardivo come le madame sottotelle croniche che arriva dopo 20-30 giorni. Quindi questo va precisato, bisogna fare attenzione specialmente quando uno subisce anche una caduta minore e assume un antiaggregante o un anticoagulante, di tenersi sotto controllo. Non di andare in pronto soccorso immediatamente dopo la caduta uno ci può pure andare, però di tenersi sotto controllo con il medico curante. Perché se vede che qualcosa non va come dovrebbe andare, allora sì. Ci sono dei segnali, voi so che quando dimettete un paziente che è magari venuto in ospedale un po' affrettatamente al pronto soccorso, però date un foglietto dove dite se però dovessi sentirti la nausea... Più che la nausea, il mal di testa, la cefalea o il sentirsi un po' disorientato, questi sono segni che dovrebbero far sì che il paziente poi ritorni in pronto soccorso e venga rivisto, valutato. Ovviamente non per forza dal neurochirurgo, perché stiamo parlando di traumi cranici minori, è da ribadire che il neurochirurgo dovrebbe vedere teoricamente un trauma con già delle lesioni, quindi già la diagnosi in prima fase, altrimenti ci sarebbero... non so quanti i neurochirurghi ci vorrebbero. E noi in Italia in effetti già abbondiamo di neurochirurghi. Io vorrevo un attimo precisare questa perché immagino che noi in Italia abbiamo oltre 160 strutture di neurochirurgie. Ecco, i consultant in neurochirurghi in Inghilterra, in Inghilterra fa 66 milioni di abitanti, noi li facciamo 60. Tutti i consultant in neurochirurghi, cioè tutti i neurochirurghi che lavorano nel sistema sanitario sono circa 158. Noi abbiamo solo 156 strutture, metti poi una media. Quindi perché è importante questo? E lo volevo precedere, si rilacciamo anche al discorso di prima. Perché se io esercito una professione, cioè io devo esercitare la professione in pieno, quindi un neurochirurgo che non esegue perlomeno 150-200 interventi all'anno, che senso ha? Certo. Cioè non è un neurochirurgo, anche perché non è esperienza, se non altrimenti. Questo è un tema che abbiamo affrontato anche con le angioplastiche, con le chirurgie. Non ha senso. E' anche un rischio per il paziente. Ma anche un rischio per il paziente. Quindi senz'altro ci sono diritti e doveri che vanno valutati. Però c'è anche questo piccolo particolare. E forse sarebbe auspicabile in futuro una politica sanitaria che prevede una riduzione delle strutture, concentrando ovviamente in determinati tipi di patologie. Per esempio fare delle patologie a volume. Se ad Alessandria sono più bravi ad operare sulla schiena, perché no tutta la patologia? Convergono lì. O se a Torino siamo più bravi ad operare sui tumori. Ma adesso dico così per dire che sia ben chiaro. Sì, sì, è chiarissimo. Però fare delle... Il primo è soltanto in Germania. In Germania ci sono tre centri, tre centri, per i trapianti. Una a nord, una a centro, una a sud a Germania. E funziona. Oggigiorno lavorare a volume è importante per il paziente, ovviamente anche dal punto di vista economico, perché risparmi. Ma certo, certo. E oltretutto hai delle professionalità innegabili, perché poi il chirurgo che lavora tanto, si fa un'esperienza, offre delle qualità e delle garanzie. Io prima però ti ho interrotto mentre tu ci stavi dettagliando le tappe della prevenzione. Eravamo arrivati alla secondaria. Poi dopo c'è il terzo livello di prevenzione, che è quello che esercito io normalmente. Nel momento in cui è avvenuto il trauma, l'incidente, noi dobbiamo cercare di ridurre, di avere meno effetti collaterali. Però già è avvenuto. Certo. Quarta fase invece è il recupero e il reinserimento sociale. Quindi noi come BIP lavoriamo molto, prima, seconda e quarta, specialmente sulla seconda e quarta. Sulla prima noi segnaliamo alle istituzioni, laddove vediamo qualcosa che non funziona, non lo segnaliamo affinché si provveda alla riparazione o alla messa in norma. Certo. Mentre sulla seconda fase, sulla quarta fase, noi proprio lavoriamo molto, tanto per citare, visto che dopo ci colleghiamo al problema musicale, noi abbiamo fatto già diversi corsi di reinserimento tipo musicabile, che lo chiamiamo musicabile, cioè pazienti affetti da traumi cranici, esiti o traumi spinali, li abbiamo avviati verso un percorso musicale perché pensavamo che fosse un motivo di aggregazione per loro anche per scoprire dei nuovi percorsi anche di vita. Certo, certo. E devo dire che abbiamo avuto un ottimo successo. Poi abbiamo fatto altri corsi, per esempio abbiamo fatto dei corsi di guida, ma non di guida sicura, di corsi di guida per pazienti che avevano esiti di traumi cranici spinali. Quindi rimetterli di nuovo a guidare. E quindi l'abbiamo fatto sul Pinerolo, dove c'è un circuito proprio che prevede, abbiamo fatto questi corsi di guida sicura, fra virgolette, ovviamente tutto questo grazie anche a dei finanziamenti che abbiamo avuto dalla fondazione, però è importante per noi il 5 per 1000, proprio perché ci permette di fare anche tutti questi progetti. Adesso ne ho citato qualcuno, abbiamo fatto l'ultimo progetto, è stato quello della maternità e paternità possibile nei pazienti affetti da esiti di lesioni spinali. Perché? Perché il problema quando uno ha una lesione spinale c'è sempre il dilemma, posso avere un figlio ancora? Si può, è come, è ovvio che va affrontato poi caso per caso e noi abbiamo fatto questo progetto, l'abbiamo messo in atto, l'abbiamo fatto a Torino, a Alessandria, a Novara, con ottimi risultati. Continuando con Bibi, arriviamo. Dunque, voi tra le tante iniziative che fate, fate anche della musica per raccogliere fondi per Bibi, perché tu, il dottor Nadello non lo dice, ma lui è un ottimo sassofonista, suona il sax baritono, dirigi anche una band musicale in cui ci sono anche dei colleghi, dei medici che suonano, però voi lo fate a fin di bene, lo fate per raccogliere fondi per l'associazione, quindi non solo ci vuoi prendere, ecco, ci parli di questo aspetto musicale perché questo ci introduce proprio alla parte conclusiva della nostra trasmissione dove parliamo di questo tuo grande impegno sulle patologie dei musicisti. Sì, il pallino per la musica per me è una cosa, è stato fondamentale, perché è un qualcosa che mi fa stare bene. Poi ci accumuna perché anche io ho questa passioncina, quindi... È una passioni bellissima. No, abbiamo fatto, abbiamo istituito questo gruppo che si chiama Garza e Cerotti, guarda un po'. Cioè, il nome... Eccoli qua. Ecco qua, Garza e Cerotti. Siamo in tanti, poi ogni tanto si sostituisce perché arriva più gente, poi arriva altri l'anno, abbiamo la collaborazione comunque da parte di parecchie persone, anche a volte musicisti professionisti che vengono a suonare con voi. Visto Fabrizio Bosso, non mi ha suonato con voi? E che vengono musicisti professionisti. Quindi questo ci permette, prima di divertirci, però di andare nei locali, nei locali pubblici, di suonare ma fare anche un momento di prevenzione. Perché noi suoniamo, raccogliamo i fondi perché il casceve... Però ogni volta che noi suoniamo c'è sempre una parte di 5 minuti, 10 minuti che io dedico e spieghiamo che cos'è la prevenzione. e mia moglie dice che io faccio il pistolotto. Però è fondamentale, eccovi qua sul palco. Esatto, esatto. Ecco, però questo ci porta a dire un'altra cosa, che un altro momento per fare prevenzione, noi l'abbiamo avuto nel passato, ce l'abbiamo tutt'oggi, che è quello del teatro conferenza. Il teatro conferenza, che cosa consiste? Noi davanti a 5-600 ragazzi di scuola, media, superiore, cioè primaria, secondaria, facciamo uno spettacolo che è ludico, sì, però prevede anche una parte proprio di conferenza su quelli che sono gli esiti dei traumi cranici, il momento della prevenzione. E quando lo fate, in che momento dello spettacolo? A metà? Lo facciamo sempre, no, intervalliamo, si fa un po' di prevenzione, un po' di spettacolo. Un po' se la devono sentire tutte. Esatto, e poi l'attenzione rimane, quindi questo è fondamentale. E volevo dire una cosa, sempre come Bip Bip, e poi arriviamo un attimo, noi da anni collaboriamo con i vari uffici regionali scolastici in varie regioni, perché Bip Bip non è presente solo in Piemonte, è presente un po' in tutta Italia, e facciamo dei corsi di formazione agli insegnanti, che sono corsi di formazione trimestrali, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, vengono, noi li prepariamo per quanto riguarda la prevenzione, e poi loro saranno loro vettori di prevenzione negli istituti, perché se no altrimenti dovremmo avere mille soci, poi da te l'input e poi via, certo. Allora, per evitare così, prepariamo gli insegnanti e ogni anno si tengono questi corsi di formazione. Il 10 ottobre, se non ricordo male, al Teatro Reggio di Torino, voi farete il secondo congresso, credo nazionale, sulle patologie dei musicisti. Uno l'avete fatto l'anno scorso, e quest'anno, allora, perché è importante parlare di queste patologie musicali? Non c'è qui in Italia un centro come Parigi, come Hannover, non esiste una cosa del genere. Assolutamente. Il problema della patologia professionale del musicista diventa sempre nell'ambito della prevenzione. Certo. Come BIP, che è prevenzione tra i micranici, quindi prevenzione anche per quanto riguarda le patologie professionali. Ogni strumento può avere una patologia a sé, quindi possiamo avere una patologia, diciamo, non patologia d'organo, ma patologia di strumento. Sì, sì, certo. Anche se in generale, però, poi ci sono dei punti che accomunano i vari musicisti. E quindi, il fare tutto questo è cercare di, prima di tutto, di sensibilizzare sia gli insegnanti, specialmente gli insegnanti, ma anche gli allievi che posserebbero poi avere delle patologie, delle problematiche in futuro. Quindi cerchiamo di ridurle, di evitare di ridurle. Devo dire che, sia in Francia, come hai detto tu, a Parigi o in Germania, da nuova, ci sono due grossi centri che sono fondamentali, diciamo, sono molto, molto, sono importanti e sono a livello proprio europeo e vengono, diciamo, visitati e utilizzati da tantissimi musicisti che hanno delle problematiche. Ora, noi vorremmo sia lavorare sull'evento preventivo, ma, lo scopo, un altro scopo importante è cercare di creare una struttura, anche in Italia, che possa, diciamo, non c'è una struttura, in Italia non c'è, quindi una struttura proprio specifica per la patologia del musicista, patologia, ti dico ad esempio, una cosa banalissima, gli strumentisti a fiato, si è visto in un lavoro che è stato pubblicato recentemente, che hanno una predisposizione maggiore a fare delle sindrome da reflusso gastroesofageo. Esattamente doppiancia, Gli oboisti, esattamente, esattamente, c'è delle cose che di per l'interno però, e allora, lavorare su un momento preventivo, almeno in cui poi invece si è già acclarata la sintomatologia, cercare di valutare insieme agli insegnanti, agli terapisti, come correggere, ad esempio, altri disturbi, i disturbi, ad esempio, i violinisti che hanno problematiche a livello dell'antipolazione su un momento posturale. Noi abbiamo, volevo approfittare per dire che abbiamo fatto un gruppo interdisciplinare perché abbiamo, stilato, stiamo stilando un questionario proprio di autovalutazione dei disturbi psico-neuromotori che sono correlati proprio alla performance dello strumentista. Quindi questi questionari noi li stiamo distribuendo nei vari conservatori d'Italia, nelle varie scuole civiche, nei teatri, nelle varie orchestre, pure quella della RAI, per avere più, è ovvio che più dati abbiamo e poi più riusciamo ad avere dal punto di vista epidemiologico dei valori che ci possono permettere di capire come indirizzare poi la prevenzione. questo si rivolge un po' a tutti i generi musicali, perché è un discorso che riguarda più la postura, lo strumento, la tecnica, poi c'è la famosa distonia focale che ha troncato la carriera a diversi grandi pianisti. non solo pianisti abbiamo la distonia focale anche chitarristi ma abbiamo anche la distonia focale delle labbra quindi a livello grandi importanti trombonisti anche di classica che hanno avuto abbandonare perché diciamo la distonia ma anche la distonia a livello oro-buccale che diventa lì come intervenite cioè nel senso si parla solo di riabilitazione ci sono farmaci e poi tu dicevi una cosa molto importante è fondamentale entrare nelle scuole di musica perché il ragazzino che viene impostato male fin dall'inizio potrebbe più facilmente sviluppare una patologia assolutamente assolutamente sì è proprio il problema della prevenzione perché dal punto di vista strettamente terapeutico nel momento in cui si è già acclarata la sindrome è difficile poter intervenire sì senza altro la riabilitazione si cerca di ridurre però è una malattia che poi non ti abbandona noi dobbiamo cercare di lavorare moltissimo sulla prevenzione ad esempio si è sempre pensato e questo pure tu che hai la passione per la musica sei un bravissimo eccezionale batterista a volte noi quando studiamo continuiamo a studiare sempre in modo continuo non ci fermiamo perché pensiamo che più studiamo ed è un gravissimo errore perché dovremmo avere comunque dei periodi di riposo di intervallo che è fondamentale e tutto questo questo non si spiega questo non viene spiegato quindi è un gravissimo errore e questo può generare poi nel futuro delle problematiche quindi possiamo avere tendiniti un'artrosi precoce anche lesioni muscolari esatto ma la stessa pure distonia focale non è detto che non ci sia l'utilizzo perché poi la distonia focale se noi valutiamo un altro campo che è quello ti ricordi una volta il cosiddetto crampo dello scrivano certo che oggi giorno è passato il crampo dello scrivano perché si scrive poco a penna ma si scrive invece di più con l'utilizzo dei tastieri abbiamo delle distonia di coloro i quali scrivono per tanto tempo sulle tastiere dei computer questa è la stessa cosa quindi è estremamente importante ecco e questo questo convegno che voi organizzerete il 10 ottobre al Regio lancia qualche messaggio particolare e lo farete in collaborazione con qualcuno di questi centri di cui tu mi accennavi sì facciamo in collaborazione per tutto con il Conservatorio di Torino e io vorrei pubblicamente ringraziare il maestro Marco Zuccarini che è il direttore del Conservatorio che è proprio si dal primo momento ha aderito al primo momento con tantissimo entusiasmo a questa iniziativa poi lo facciamo in collaborazione con il Regio ok con la filarmonica del Regio ovviamente l'azienda città della salute è capostipito in questo lo stesso BIP come associazione proprio per la prevenzione in questo caso in termini un po' più generici partecipano a mettere in atto questo tipo di convegno e di iniziative ma da qui si pensa di riuscire poi a dar vita magari nella nostra regione al primo centro italiano ecco questo sarebbe perché di praticanti musica ce ne è veramente tanti di professionisti tantissimi l'obiettivo sarebbe proprio questo cercare di capire se è fattibile diciamo l'apertura di un centro di riferimento in Piemonte che potrebbe essere anche poi di riferimento a livello nazionale non soltanto e chi potrebbero essere gli attori naturalmente i riabilitatori i fisioterapisti ma i psicologi i psicologi che sono prevalenti poi ovviamente i neurofisiologi i fognatri i logopedisti assolutamente tu mi hai anche parlato di c'è stato un mio collega il nostro collega che è il dottor Cosu che è un ottorino laringoiatra che ha fatto degli interessantissimi interessantissimi lavori proprio sui musicisti mentre suonano con l'utilizzo dell'endoscopio per valutare proprio lo stress a livello della glottide e a secondo del tipo di strumento a fiato che viene suonata si vede proprio una grande differenza ed è molto diciamo è emblematico vederlo molto bello e l'uso di uno strumento musicale invece non visto da un punto di vista delle patologie che l'uso o il maluso la malpractice può provocare ma come invece strumento di riabilitazione assolutamente la batteria quella è un altro e allora quello è un altro capitolo certo perché lì lì parliamo come l'utilizzo di uno strumento per riabilitare qualcun altro magari con la musica che è piacevole con la musica e non so se ti ricordi circa 25 24 anni fa io operai un nostro amico comune batterista che ebbe un incidente rimanese in coma fu operato certo mi ricordo e poi mettevo in atto un momento di riabilitazione proprio attraverso la batteria perché lui usava la batteria per cui fu creata una camera in ospedale di musica di prova musica dove lui venne rimesso dietro alla batteria perché lui non aveva contatto non riusciva a interagire con gli altri però messo dietro la batteria iniziava a suonare arrivarono tantissimi amici che suonavano insieme a lui e così questo fu un percorso riabilitativo grazie alla batteria molto interessante diciamo dunque termina qui praticamente la nostra puntata io voglio ringraziare tantissimo il dottor Michele Naddeo che opera come neurochirurgo nella città della salute CTO di Torino grazie tantissimo Michele per le tante cose importanti interessanti che si è detto e vorrei sottolineare alcuni punti intanto l'importanza della prevenzione l'abbiamo capito quanto sia importante l'uso della cintura di sicurezza del casco che la cintura va portata anche con l'airbag perché l'airbag potrebbe senza la cintura provocarci dei gravi danni e di fare attenzione naturalmente anche voi ciclisti rispettate le persone non andate controsenso perché potrebbero succedere incidenti gravi anche a voi perché molti non mettono il casco come invece il dottore Naddeo raccomandava ma voglio ricordare l'associazione Bip Bip vi ricordo la importanza di dare un contributo attraverso il 5 per 1000 questa associazione che si occupa in modo particolare di prevenzione dei traumi cranici perché abbiamo scoperto quanto drammatica sia la situazione e quanto può cambiare la vita dall'oggi al domani di una persona a seguito di un trauma cranico o di un trauma midollare ancora un ringraziamento al dottor Michele Naddeo noi ci vedremo la prossima settimana parleremo di nutrizione e di alimentazione con la dottoressa Biorci adesso la linea Aclips con Lorena Antonioni e i suoi ospiti a tutti voi buona serata a tutti i suoi ospiti